Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Volume 13, dobbiamo pensare a questo, volume 13. Io ho pensato... ...delle schedine del Totocalcio. Ah. Abbiamo fatto 13. E' una buona cosa, no? E' una buona cosa, no? Ci stai inflando. Però fa il conto che è Latiana, pure questa cosa che non è fuori francaviglia. Facciamo la sopra strada di Latiana, insomma. Facciamo la sopra strada di Latiana. Puttanata! Puttanata! Siamo da bandorato. Sì, ognuno, quanto ti prendi? 23. Ah, no, no, abbiamo esorteggiato la squadra di 23. E tu, quant'altro? Freddice. Eh, è bene questa idea. Quello ragazzo lì, quello che si sta nascondendo, mi ha preso in giro e ha preso in giro pure lì, no? Guarda poco, man mano che cresci, io poi te lo indicherò sempre, ti ricordi quello lì, e poi quando ti fai un po' più grande così, più o meno, ti devi ricordare di questa sera, va bene? Con l'inizio dell'estate potremmo iniziare ad ampliare, non mi riprendo me, potremmo iniziare a far ripartire il cos'è per te. Io ne ho pensato, uno con la cuccia, mi smetto, mi mangio la cuccia, mi mangio in 30 secondi. Grazie a tutti. Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione